Un saluto a Filippo, un saluto a Michele, a Lorena, salvo la Bologna, la Q3 è pazzesco, buona domenica, buona domenica anche a te e chi lo sa che in questo mese di marzo che comincia oggi i domenicali siano dediti ai viaggi o meno per sapere se si sono organizzati insomma già dei viaggi più o meno lunghi in Italia o magari anche all'estero. 3 6 6 6 3 4 4 6 6 5 5 6 6 6 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.